È in collegamento con noi, lo ringrazio molto, il leader della Lega Matteo Salvini che torna appena finito il lockdown, torna sul territorio, abbattere il territorio direi e riparte proprio dal Molise. Diciamo meglio che apre la campagna elettorale per le regionali in campagna il 5, ma il 4 è qui con noi, è in Molise e sceglie di ripartire da qui perché intanto buonasera e grazie per essere con noi. Grazie per l'invito, ma faccio una scelta controcorrente da segretario di un partito nazionale, parto da una delle realtà più piccole, spesso ahimè dalla politica romana dimenticate, quindi sarò a Rionero Sannitico a visitare una comunità di recupero per persone in difficoltà, per problemi di droga, di alcol, perché il volontariato si è dimostrata una delle colonne in questi mesi di chiusura e poi ne approfitterò per incontrare gli amministratori, i consiglieri, i militanti del nostro movimento perché da troppo tempo mi aspettavano in Molise, quindi riparto proprio da lì, è vero il giorno dopo sarò a Napoli, a Nola, ad Avellino, però devo dire che mi manca il contatto diretto con gli italiani e con i molisani, anche perché i problemi o li capisci visitando di persona alcune strutture oppure difficilmente stando solo a Roma li capisci. Toma vi riconosce un merito importante, meriti importanti, tra cui quello di aver portato migliaia di voti alla sua elezione, però siete ancora fuori dal suo esecutivo, il commissario Colla che abbiamo sentito qualche sera fa ha detto non aspetteremo fino a novembre, ormai ci consideriamo all'opposizione, anche lei ha abbandonato, come dire, ha chiuso la porta anche lei? No, io non chiudo mai nessuna porta, semplicemente rispetto il voto dei molisani, i molisani hanno scelto un governatore, una squadra di centrodestra, dando tanta fiducia alla Lega, quindi non ho ancora capito perché il governatore dopo un po' di tempo abbia messo la Lega fuori dalla porta, come se il voto dei molisani non contasse, poi per me non fanno differenza le poltrone, altrimenti non avremmo lasciato sette ministeri nel nome della coerenza e del rispetto degli italiani quando i 5 Stelle bloccavano tutto e tutti, però non ho capito onestamente queste aperture e chiusure, questi cambi di umore, cambi di idee del governatore del Molise che non corrispondono al volere dei molisani. Lui dice che ci sono alcune scelte che ha fatto la Lega tendenzialmente nazionale, insomma indicazioni che sono arrivate anche da lei, immagino, credo, che hanno squilibrato un po' la maggioranza, lo hanno messo in difficoltà, l'espulsione delle due consiglieri regionali elette, che erano in una sfida continua con l'allora coordinatore, poi il commissariamento esterno di questa sanità, voi eravate al governo con i 5 Stelle, l'avete accettato di buon grado, direi insomma l'avete votato. Quindi il governatore dice, io sono stato leale fino a questo momento con la Lega, la Lega però qualche volta mi ha messo in difficoltà e questo è il chiarimento che lui ha messo sul tavolo. Ma se ne è accorto dopo un anno? Non so, chiedeteglielo, perché quello che lui sottolinea... Diciamo che ha sopportato per un anno. Un anno e mezzo fa. Eh no, ma non si fa così, dai. I molisani hanno votato un programma, una squadra, candidati e un governatore. Se il governatore decide che vuole far da solo, fare senza la Lega e fregarsene del voto dei molisani e del programma del centrodestra, lo faccia, secondo me non fa un buon servizio perché, ripeto, la Lega è presente in Giunta in Sicilia, in Calabria, in Sardegna, in Veneto, in Piemonte e in Abruzzo e ovunque non chiediamo posti, chiediamo semplicemente idee, di portare soluzioni. Quindi se invece a qualcun altro interessa la poltrona, mi spiace perché non fa un buon servizio al Molise.